Una mossa dell'ex velino sui social ha scatenato il chiacchiericcio sul possibile matrimonio per i prelemi. Ecco i dettagli. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti per le nozze? Un indizio social ha acceso nelle ultime ore il gossip sulla coppia nata nella casa del grande fratello Vip. Sono ormai diversi mesi che i due hanno iniziato la loro love story che, almeno nella fase iniziale, ha attirato critiche e suscitato dubbi e perplessità. Dopo che Elisabetta Gregoraci aveva chiuso definitivamente ad un possibile flirt con l'ex velino di Striscia la notizia all'interno della casa più spiata d'Italia del GF Vip, per Giulia Salemi si è aperta la possibilità di conoscere meglio Pretelli. Una passione, la loro, che è proseguita anche a telecamere spente e dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorni. In questi ultimi giorni la coppia si trova a Roma, dove nelle ultime ore hanno incontrato un'altra ex concorrente del reality di Canale 5, Patrizia De Blanc. In queste ultime ore però un gossip ha colpito Giulia e Pierpaolo. I prelemi starebbero pensando al matrimonio. Almeno questo è quanto riportano i rumors sui social. Ma cosa ha scatenato una tale diceria? Sembra che all'origine di tutto sia stato un post pubblicato sulla pagina Instagram Prelemistar, dedicata all'influencer di Orgini Iraniane. Nel post si legge. I prelemi non commentano ma il gossip ne è certo. Presto Pierpaolo e Giulia potrebbero salire all'altare. Una considerazione che ha scatenato le fan. Ma ad attirare l'attenzione è stato principalmente un liché. Quello proveniente dal profilo ufficiale Instagram di Pierpaolo. I liché ha inevitabilmente alimentato i sospetti che il gossip sia proprio veritiero. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno organizzando il matrimonio? Al momento non vi sono conferme ufficiali, ma sono in tanti a sperare che questa notizia a breve possa avere una conferma. Nel frattempo sia Giulia che Pierpaolo sono molto impegnati ad organizzare la loro vita lavorativa, ricca di grandi novità professionali. La figlia di Fariba Teherani, ex dell'Isola dei Famosi, è stata designata alla conduzione di due format.